amici di milan.soccer eccoci un appuntamento speciale con l'informazione rosso nera prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere un like un pollicione a questo video e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati una buona notizia per voi se volete potete entrare con il vostro volto volto viso faccia all'interno di questo canale perché potrete anche dire la vostra mandateci un video su milan.soccer.official.com in verticale 45 secondi un minuto parlateci del milan in maniera educata altrimenti non li pubblichiamo e magari se volete potete fare anche pubblicità alla vostra attività commerciale potete fare pubblicità anche se volete al vostro milan club insomma potete fare ciò che più vi fa piacere perché questo è il vostro canale a proposito ci tengo a dire a chi ha avuto la fretta di scrivere tra i commenti ma cristo in macchina non guido io quindi tutto questo ti può rasserenare caro amico prima di scrivere cerca di ragionare a destra ci sta chi non guida a sinistra c'è addirittura pensate un bel volante allora perché siamo qui per parlare della plusvalenza e la plusvalenza e da roma ci sono novità perché perché il caso il caso plusvalenze torna sul tavolo del pubblico ministero dei pubblici ministeri di milano come riportato da il fatto quotidiano infatti nell'ambito dell'indagine sulle plusvalenze della roma la procura ha inviato gli atti a diverse procure in italia a diverse procure in italia e tra queste c'è anche la procura di milano dunque dopo la conclusione delle indagini preliminari sul club giallorosso infatti il 26 aprile sono state invece sono stati invece aperti altri fascicoli per il reato di false comunicazioni sociali articolo 2621 del codice civile per individuare le eventuali responsabilità legate alle squadre con cui la roma ha effettuato gli scambi contestati di calciatori tra il 2017 il 2020 quindi parliamoci in maniera meno giuridica c'è un procedimento nei confronti della roma la procura di roma ha detto dobbiamo vedere meglio cosa è accaduto tra il 2017 il 2020 per questo tutti coloro che hanno intrattenuto rapporti ora sono sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda la città di milano questa volta è l'inter ad essere sotto la lente di ingrandimento al centro c'è in particolare l'operazione che n'estate 2012 2018 portò in nero azzurro rajan niangolan mentre davide santon e niccolò zaniolo fecero il percorso inverso sbarcando nella capitale nell'operazione il belga era stato valutato 38 milioni di euro generando una plus valenza per i giallorossi una buona plus valenza diciamo così per i giallorossi e poi ancora zaniolo venne valutato 5,7 la plus valenza direi una plus valenza di 31,9 milioni e tanto zaniolo 5,7 milioni santon 10 milioni con plus valenza in questo caso per l'inter rispettivamente 4,2 su zaniolo e 8,100 su santon la tesi degli investigatori come si legge nell'informativa finale redatta dal nucleo pef della guardia di finanza di roma e depositata agli atti dell'inchiesta e che nell'ambito delle operazioni a specchio esaminate sembra che la contabilizzazione abbia assunto il ruolo non di mezzo ma quello di fine vale a dire che col fine di poter contabilizzare una plus valenza più alta di quella effettiva si decideva di fissare i valori dei calciatori oggetto di scambio a un prezzo diverso da quello che sarebbe stato autostabilito se la decisione avesse comportato un incremento della liquidità da impiegare per l'operazione una tesi che secondo gli stessi investigatori sarebbe confermata dalle dichiarazioni di uno degli indagati il direttore finanziario della roma giorgio francia facendo l'analisi dei contratti mi ero posto il problema della contabilizzazione ho chiesto a colui che firmava il contratto il dottor fienga guido ex amministratore delegato anche lui indagato incredibile anche lui anche lui indagato il quale incredibile leggere tutte queste cose veramente molto lungo l'articolo però non voglio tediarvi voglio fare solamente una sintesi e la sintesi è che la procura di milano aveva archiviato in illo tempore in maniera davvero celere vista la capacità probabilmente di riuscire ad arrivare ad una soluzione senza attendere tutto questo tempo perché comunque sono passati dei mesi anzi degli anni certo ci auguriamo che anche per le nostre questioni sia altrettanto celere ma dall'altra parte la procura di roma ha detto no bisogna guardare attentamente ai alle relazioni che ci sono state per queste operazioni tra la roma s roma la roma calcio e l'internazionale l'inter per cui bisogna guardare con attenzione il contesto delle plus valenze ora lasciatemi dire che ci sono cifre che a volte io non comprendo per ignoranza questo ve lo dico con grande con grande sincerità però oggettivamente quando fai una plus valenza di un 31 milioni e 900 mila euro su un'operazione come quella di rajan angolan non lo so mi sembrano delle cifre spropositate ora non voglio fare diciamo così del qualunquismo di tutto erbo un fascio cioè voglio cercare di capire perché in questo momento alcuni giocatori che hanno un valore diciamo così visivamente meno apprezzabile rispetto di altri abbiano delle valutazioni così importanti e così clamorose e dunque appena uscita questa faccenda si tratterà di capire ora qual è la rispondenza perché la procura di roma vuole chiudere questa operazione nel modo più chiaro possibile come giusto che sia e nel modo anche più celere possibile si tratta di capire quindi in questo caso tutte quante le relazioni intercosse tra la roma e le altre squadre perché in mezzo non c'è solo 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 l'inter però questa volta il milano non c'entra almeno questo lo possiamo dire per cui siccome molti di voi hanno chiesto ma anche sulla questione plus valenza ho sentito parlare del milano sentito parlare no il milano non c'è e nelle relazioni che la roma ha intrattenuto in quel periodo in quel momento storico in questo caso c'era l'inter ma non c'era il milano va bene queste sono un po' diciamo così le questioni che stanno uscendo torniamo come sempre a parlare di questioni che sono sempre poco legate al campo però d'altro canto noi eravamo ben predisposti e non dico noi come milan soccer cioè il milan è ben predisposto a parlare di tutt'altro però evidentemente il calcio in questo momento sta vivendo mille situazioni che sono borderline l'importante è che tutti vengano trattati allo stesso modo giuridicamente e come comunicazione ci sentiamo dopo ciao ciao